gli eventi della settimana a cui io eri b non andrei buongiornissimo buongiorno eri b benvenuta caffè speriamo di fare cosa gradita non lo so senti oggi dobbiamo andare veloci andiamo veloci mi levo subito una roba e non la dico più per tutto il mese di ottobre campi di zucche raga allora Mirtili di San Vito a Gaggiano ma soprattutto il campo di Federica che è quello che dove è andata anche la Ferrani quando ancora era felice a fare il suo set fotografico ieri in Grecia abbiamo visto ieri in Grecia ragazzi vabbè ma fa niente lasciamo stare comunque ha trovato un nuovo mercato per poter vendere sono contenta da un certo punto quindi zucche 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 no non c'andresti no non c'andresti anche perché secondo me è pieno di bambini e va bene ma è pieno di mamme di bambini a cui c'è mamma influencer che sono una cosa molto simile le mamme pancine ah ok ma magari anche mamme pancine ci sono ci facciamo amici sempre tutti e poi ti spieghiamo chi sono le mamme pancine beh perché non sai cosa sono le mamme pancine no abbiamo poco tempo andiamo avanti ok poi ortica in festa eh oh bello ortica in festa sempre stesse cose bancarelle è la festa di quartiere artisti di strada pioverà quindi organizzati quattro dieci quattro sei quindi da oggi fino a domenica wow 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 va bene poi poi bollate ha deciso di fare anche lei il suo street food oh bello raga però così diventiamo veramente tutti obesi cioè io ci tengo a dirvelo si chiama hop hop mi fa ridere hop hop street food 456 in piazza della resistenza andate e mangiate tutto e lasciate i vostri stipendi lì grazie 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 benissimo poi vabbè c'è una cosa a cui io non posso andare perché proprio è un argomento che non mi interessa che è la Milano Wine Week che molto probabilmente durerà solo tre giorni tre giorni l'inaugurazione è questa sera alle 18 dove nel posto più wine di tutta Milano cioè City Life perché è il luogo più wine di tutta Milano? perché sì cioè se tu pensi di dover bere un bicchiere di vino dove pensi di andare? non lo so non bevo vino quindi a City Life amici anzi scusate domani sabato alle 18 brindisi di apertura la Wine Week che durerà due giorni secondo me ah dici cioè sono sabato domenica poi non lo so ho trovato questo evento che il titolo mi interessava poi ho andato a leggere la descrizione ho detto vabbè da oggi fino al 6 c'è il Cook Fest Cook Fest? sì 2024 la permanente che è un locale a Milano che è inviaturati sono l'evento food del Corriere della Sera quindi corsi di cucina, spettacoli con degustazione, mercato dei produttori la domanda vera è una sola ne avevamo veramente bisogno ma se fai così non abbiamo bisogno di niente no raga cioè non siamo già pieni di tutti quegli programmi televisivi che ci hanno bombardati negli anni dieci della televisione sulla cucina dobbiamo pure fare un evento in giro per strada ti ricordi che sono anche dei canali che fanno solo food sì esatto che pizza basta basta ah ho lasciato gli ultimi due eventi un po' stranini alla fine ah ok sei pronto? vai ah sabato 5 c'è danze sacre nella tradizione di Gurdjieff che io non so ovviamente chi sia a Milano in via Pezzi 2136 non so dove sia credo Milano più o meno est ma non dire più o meno che magari poi è d'altra parte percorsi di conoscenza del sé danze dei corpi celesti eh ci vedo benissimo ecco va bene ma perché è una cosa strana che non si può andare a fare io non l'ho capito però se no puoi fare quest'ultimo sentiamolo quest'ultimo è molto importante secondo te secondo me a te piacerebbe vai venerdì cioè stasera alle 20 e 30 c'è le sfumature del fuoco eh biodanza con Mirtes Gonzalez allo spazio Mami Wata in via Savona 134 eh raga io non so cosa dirvi grazie per avere anche solo un amico di Facebook che ha messo like a questo evento io vi ringrazio tantissimo perché se no veramente io non saprei dove trovare questi eventi dove sicuramente io non andrò ecco ecco benissimo Adriana invece ci scrive Gurdjieff beh andare sicuramente cos'è? Gurdjieff quello di prima ah chi è Gurdjieff? l'irreprensibile Gurdjieff come dicevo l'altro Giovanni Giacomo scusa Adriana potresti mandare un messaggio per capire chi è Gurdjieff c'era una faccina che rideva alla fine del messaggio quindi credo che forse neanche lei lo sa ah ok quindi anche tu non sai chi è non lo so comunque Eribi grazie mille per i tuoi consigli prego 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 la prossima settimana mi dilungherò perché questa settimana è stata troppo corta è stata troppo corta ma ti dilungherai così tanto quella dopo ancora che eh sì perché la prossima settimana sarà l'ultima solo con questo spazio dalla settimana dopo ci sarà anche Trend Me alle lunedì dalle 20 alle 21 con MM ecco e quindi va bene un saluto ad MM che è in quelle di terra nipponica e quindi eh buon pranzo buon pranzo buona cena no buon pranzo 7 e 7 tra 14 e 39 ok buon pranzo allora buon pranzo eh o con ogni acchi per tutti grazie mille arigato arigato cosa è rimasta anche alla nostra Eribi andiamo con un po' di musica poi torniamo subito qui perché abbiamo altri ospiti che sono già in attesa di collegarsi con noi ciao ciao